Ma Bruschelli è un ragazzo intelligente, io credo che lui ha avuto qualcosa di più di quello che doveva avere la piazza, gli ha dato, guarda la piazza dà e toglie, a lui gli ha dato e gli ha tolto poco, però credo che da qui in avanti per lui è parecchio difficile vincere e mi auguro senz'altro che non vinca.